Che il Signore vi benedica tutti e tutte grandemente. Siamo ancora qui oggi, riuniti, per onorare e glorificare Dio, per benedire il Suo nome, per riconoscere che Dio esiste e che Lui merita le lodi, merita l'onore e la gloria da parte di tutti noi, da parte di tutti gli esseri umani. E noi siamo qui per conoscere Dio e per invitare tutte le persone a leggere la Bibbia, che cerchino il cammino di Dio, che cerchino la verità e che si guadagnino la vita eterna. Perché esiste la vita eterna, esiste una vita nell'aldilà. C'è una vita che noi dobbiamo cercare, guadagnare e ottenere già da adesso. E la Bibbia è il tesoro che noi abbiamo per trovare questa verità, questa vita nell'aldilà. Ecco perché tutti dovrebbero leggere la Bibbia e cercare qualcuno vicino che lo appoggi, qualcuno come Dio appunto che gli dia pace, consolazione, felicità, allegria, che tolga i tormenti, le tristezze, che tolga le malattie, la desolazione, tante tristezze, tante amarezze, e tribolazioni che vive l'essere umano. Ma abbiamo un Dio potente e Lui toglie tutte queste cose e Lui è vicino a noi. Lui non è così lontano, ma vicino, più vicino di quanto noi pensiamo. Quindi il mio invito di oggi è per tutti coloro che ancora non hanno avuto esperienze con Dio, esperienze spirituali meravigliose con Dio. Vi invito a conoscere e a godere della presenza di Dio. Oggi onoreremo il Signore attraverso un insegnamento, però prima canteremo un inno senza la musica. Lo cantiamo solamente con la nostra voce. Questo inno è l'inno numero 55 che potete trovare nel vostro libro degli inni, che significa Sono libero. Coloro che hanno il libro dei canti possono cercare l'inno e coloro che non ce l'hanno, bene un giorno magari potrete avere l'opportunità di averlo anche voi e di cantare a Dio. Nel frattempo potete cantare insieme a noi. Inno 55, Sono libero. Io avevo molto tempo in il errore agobato in il peccato e il temor quando vi al Salvador e ascolté su tierna voce mi Gesù mi hizo libero per suo amore E non libo. Io vorrei sono libero per la grazia di Gesù E non libo sto d'alvoare. E non libo sto d'alvoare. E non libo sto d'alvoare. Leia per la felicità di male. io vagava molto tempo nel errore senza pensare nel amor del salvador io vagava più e più lejos di mio Redentor ma ora per la sua morte libero 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 per la grazia di Gesù libero 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 io vagava molto tempo nel errore ma ora ora quiero andar con mi señor quiero oir su tierna voz y seguirle siempre en pos gloria gloria sea nuestro nuestro buen pastor libero 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 generate da diverse circostanze, ma Dio ci ha dato questa libertà, ci ha fatto uscire da questa prigione e oggi noi stiamo godendo della pace, stiamo godendo di un riposo, stiamo godendo della Sua presenza e oggi godiamo anche il Suo aiuto, perché quando noi soffriamo, abbiamo un problema, noi preghiamo e lo clamiamo, Lui è attento ad ascoltarci e questa è la cosa bella, avere Dio vicino a noi. Ecco perché io desidero che tutti voi abbiate Dio vicino nel vostro cuore, perché Lui è molto vicino a voi. Oggi mediteremo in alcuni versi della Bibbia ci sono tante parole, frasi e a volte si legge appunto nella Bibbia diverse volte questa frase i mansueti erediteranno la terra, che i mansueti vivranno per sempre su questa terra. Troviamo anche alcune frasi che dicono ci saranno cieli nuovi e terre nuove e oggi noi leggeremo alcuni versi che hanno a che vedere con questi temi, con queste frasi, cioè cieli nuovi, terre nuove, chi sono i mansueti, quali sono le caratteristiche delle persone mansuete e impareremo anche al termine dell'insegnamento impareremo chi è una persona mansueta, come fa a guadagnare la terra, quella terra nuova nel futuro, quel cielo nuovo del futuro e così che anche noi potremo desiderare di ottenere questa terra nuova e questo cielo nuovo. Noi per ora siamo in cammino verso questa terra nuova, abbiamo appena iniziato il cammino perché dopo la nostra morte allora sì arriveremo a quella terra nuova, alla meta e la Bibbia al termine dice che Dio ristabilirà una nuova terra nuova dopo questa, sicuramente lo farà dopo la distruzione di questo pianeta. Bene, sono tante le cose che Dio ha pianificato con i Suoi figli, con i salvati, con coloro che si salveranno, con quelle persone che saranno mansuete e sono già mansueti. Le caratteristiche dei mansueti. Una persona mansueta è una persona benevola, uomo o donna che sia, è una persona benevola, gentile, benigno, è una persona pia, moderata, è una persona affabile, una persona piacevole, dolce, che è voluta bene da tutti, ovunque questa persona vada, ovunque questa persona stia, è amata da tutti e le va bene, nello studio, nel lavoro, nella piccola grande impresa, ovunque questa persona va, è voluta bene da tutti, perché? Perché questa persona è mansueta, uomo o donna che sia, e ha tutte queste virtù, queste qualità, e queste qualità sono i frutti dello spirito, e oggi desidereremo essere anche noi mansueti per ereditare la terra, perché dice che questa nuova terra che Dio ha preparato, questa nuova terra è per i mansueti, nessuno nasce mansueto, nessun essere umano può nascere mansueto, certo ci sono state eccezioni, perché alcune persone sono nate mansuete, umili, semplici, con questa natura, ma sono eccezioni come il Signore Gesù Cristo, per esempio, che nacque essendo umile, semplice, mansueto, ma la maggior parte delle persone ha bisogno di un cambiamento per diventare mansueta, un cambiamento di vita, e tutti aspiriamo e desideriamo arrivare a questo livello, cioè essere mansueti per poter guadagnare la vita eterna, per poter godere di quella terra nuova che Dio offre. Quindi dobbiamo percorrere un cammino e nella misura che oggi noi leggeremo i versi, comprenderemo un poco di più quello che dobbiamo fare, cosa appunto dobbiamo fare per essere mansueti, per riuscire a diventare mansueti per coloro che ancora non sono stati mutati in persone mansuete. leggeremo passo passo desiderando con tutto il nostro cuore che Dio stia con noi e che ci trasformi in queste persone mansuete, a maggior ragione in questo periodo così difficile del quale ci sono tante famiglie che si stanno distruggendo, tante coppie si stanno separando, stanno divorziando, ci sono uomini o donne che si sono ammalati mentalmente e sono diventati schizofrenici e stanno soffrendo loro e fanno soffrire anche la loro famiglia ci sono tanti problemi difficoltà controversie litigi nelle famiglie le famiglie si stanno distruggendo la pace e l'armonia stanno terminando e le persone diciamolo anche in modo terra a terra stanno diventando matte ma tutto questo per mancanza di Dio nella loro vita perché non hanno questo Dio potente nella loro vita perché è Lui che ci consola ci libera ci purifica e ci toglie tutte queste cose oggi mentre parleremo dei mansueti oltre a questo impareremo anche l'opera di Dio come Lui come Lui agisce cos'è che fa con noi la Sua misericordia con noi anche in questo periodo in questo periodo così difficile ma è un'opportunità in più per acclamare Dio per pregarlo per chiedergli invocarlo invocare questo Dio vero che è uno spirito è sufficiente chiudere gli occhi e acclamarlo e Lui vi ascolterà oggi pertanto onoreremo Dio con tutto questo imparando di pari passo i requisiti dei mansueti chi desidera di voi essere mansueto chi desidera guadagnare la terra eterna non è questa terra che noi stiamo vivendo oggi ma una terra nuova che Dio ha per i Suoi figli per la Sua Chiesa per i Suoi credenti adesso leggeremo alcuni versi della Bibbia preparate la vostra Bibbia e apriamo la Bibbia nel capitolo di Esodo capitolo 3 libro di Esodo capitolo 3 verso 5 parleremo dei mansueti che erediteranno la terra ma prima facciamo un'introduzione specificando e parlando di cosa è la mansuetudine e come ottenerla come vi ho detto ci sono persone la cui natura è mansueta ma sono molto pochi noi abbiamo letto l'esempio del Signore Gesù Cristo e poi altri esempi come Mosè per esempio e nel verso 1 del capitolo 3 dice che Mosè stava pascolando il greggio di suo suocero e arrivò ad un monte perché stava appunto portando il greggio oltre il deserto e giunse al monte Oreb la montagna di Dio noi abbiamo già parlato che Dio è la stessa montagna e qui sul monte Oreb Mosè ebbe l'esperienza con Dio abbiamo parlato appunto che Oreb è il monte Sianai nel quale Mosè ebbe esperienza con Dio Mosè qui non aveva ancora conosciuto il Signore lui semplicemente stava passendo il greggio del suo suocero e in questo momento nella storia Mosè non era quel personaggio importante di cui poi leggeremo e Mosè era lì passendo il greggio e gli apparve una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto e Mosè guardò il roveto bruciava col fuoco ma il roveto non si consumava allora Mosè disse nel verso 3 ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo perché mai il roveto non si consuma 4 ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse Mosè Mosè e gli rispose eccomi perché Mosè si avvicinò sempre di più al roveto ma quando si avvicinò ad un certo punto Dio lo fermò e gli disse nel verso 5 non avvicinarti qui togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo santo dice Dio a Mosè qui vediamo che Dio parlò a Mosè perché Mosè trovò grazia davanti a Dio e Mosè era appunto quell'uomo mansueto Dio vide che Mosè aveva in sé delle capacità ecco perché Dio chiamò Mosè perché vide in lui la capacità di seguirlo vide lui la mansuetudine ecco perché Dio si manifesta Mosè e gli parla quel giorno c'è un altro verso che al momento mi sfugge nel quale si dice esplicitamente che Mosè era un uomo molto mansueto e appunto grazie a questa qualità Dio lo chiamò affinché Mosè si incaricasse di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto e così successe perché Mosè ubbidì a Dio gli credette e fece le cose come Dio gli aveva comandato adesso passiamo a numeri capitolo 12 finora abbiamo letto di come Dio si manifestò a Mosè per la prima volta poi in numeri Mosè stava già vivendo in Egitto perché lui fu cresciuto dalla figlia del re del faraone e lui fu educato tramite appunto la cultura e gli insegnamenti egiziani fu educato così Mosè ma Mosè aveva una qualità meravigliosa che era quella di essere mansueto e in numeri capitolo 12 verso 3 dice la qualità principale di Mosè che Dio scelse come liberatore per far uscire dalla schiavitù il popolo di Israele dall'Egitto e in numeri capitolo 12 verso 3 dice or Mosè era un uomo molto mansueto più di chiunque altro sulla faccia della terra come vedete questo verso dimostra il fatto che esistono esseri umani che esistono già con questa qualità che nascono con questa qualità di essere mansueto oppure che racchiuda tante qualità perché il mansueto abbiamo detto che è una persona menigna dolce gentile semplice ha tante virtù la persona mansueta e sicuramente alcuni pochi nascono con queste virtù altri invece come noi dobbiamo guadagnarci queste virtù da parte di Dio mentre Mosè era un uomo molto mansueto più di chiunque altro sulla faccia della terra ecco perché Dio lo scelse ecco perché Dio fissò i suoi occhi su Mosè adesso passiamo ad Euteronomio che si trova dopo numeri Deuteronomio capitolo 26 nel verso 15 Deuteronomio 26 verso 15 qui parla Mosè Mosè stava parlando al Signore in questo verso perché Mosè qui in Deuteronomio dobbiamo ricordarci che Mosè era in fin di vita lui aveva già portato il popolo di Israele nel deserto lo aveva liberato dalla scavitù in Egitto lo portò nel deserto dove vissero 40 anni e lì nel deserto successero tante cose durante quei 40 anni e quando Mosè stava appunto per morire perché ci troviamo in quel momento riunì tutto il popolo e diede a loro nuovamente le leggi e disse loro non smettete mai di compiere la legge né i comandamenti di Dio perché coloro che compiono i comandamenti di Dio otterranno la vita eterna e Mosè ricordava sempre questo al popolo e nel verso 15 Mosè stava parlando al Signore e gli disse volgi a noi lo sguardo dalla tua santa dimora dal cielo quindi vedete qui Mosè sta pregando Dio per il popolo e gli sta dicendo al Signore Signore ricordati che tu ci hai promesso che saremmo entrati nella terra di Canaan una terra dove scorrevano latte e miele una terra di benedizioni quella terra di Canaan che Dio aveva mostrato a Mosè dicendogli di portare lì il popolo di Israele perché era una terra fatta di tante benedizioni lì scorrevano latte e miele significa che c'erano benedizioni e abbondanza in quella terra ma solo e quando gli israeliti avessero compiuto i comandamenti ma siccome il popolo di Israele non compì nessun comandamento allora raggiunsero sì fisicamente la terra di Canaan ma lì trovarono erbacce cardi spini lì non pioveva da tanti anni trovarono siccità e tanta miseria e questo successe quando il popolo di Israele arrivò nella terra di Canaan una terra che fu promessa già da Mosè dicendogli porta lì il popolo perché lì il popolo godrà di tanta abbondanza ma Dio in realtà stava parlando di un futuro perché questa terra quella terra di Canaan rappresentava simbolicamente una nuova terra ereditata dai Mansueti non più dal popolo di Israele quella terra di Canaan sarebbe stata ereditata dai Mansueti quella terra di Canaan quindi era il simbolismo della nuova terra che Dio avrebbe dato nel futuro ai Mansueti quindi gli israeliti di quell'epoca non compirono i comandamenti del Signore quindi persero la benedizione nella terra di Canaan e entrarono sì fisicamente nella terra di Canaan ma non trovarono le meraviglie e i tesori e le benedizioni che Dio promise loro anzi soffrirono molto nella terra di Canaan Dio Dio comunque disse la promessa rimane e sarà per i Mansueti per loro è questa promessa loro eriteranno questa terra nuova questa terra di Canaan loro dovranno arrivare lì in futuro insieme a Gesù Cristo i Suoi seguaci la Sua Chiesa loro si godranno della nuova terra della terra di Canaan dove scorrono latte e miele questa era la benedizione la promessa di Dio e qui noi in questo verso 15 leggiamo la preghiera di Mosè che dice a Dio volge a noi lo sguardo dalla tua santa dimora Signore dal cielo e benedici il tuo popolo di Israele e il paese che ci hai dato come giuraste i nostri padri un paese dove scorre latte e miele quindi Mosè disse ti ricordo Signore di non dimenticarti di compiere quella tua promessa perché è una tua promessa di arrivare alla terra dove scorre latte e miele ma Mosè ignorava che Dio stava parlando per il futuro in verità Dio già sapeva che la terra di Canaan sarebbe stata guadagnata dai Mansueti e non dal popolo di Israele che fallì mentre Dio vide che nel futuro ci sarebbero stati tante persone nella chiesa del Signor Gesù Cristo uomini e donne che si sarebbero convertiti al Signore e avrebbero compiuto i comandamenti del Signore gente di tante nazioni loro sì avrebbero goduto di quella terra nuova di quella Canaan spirituale dove scorrono latte e miele loro sì ma bisogna avere dei requisiti bisogna essere Mansueti per ereditare o possedere la terra nuova adesso continuiamo nel Salmo 34 se ci sono persone nuove o recenti i salmi si trovano più o meno a metà della Bibbia Salmo 34 continuiamo a leggere sui Mansueti e sul fatto che loro erediteranno la nuova terra Salmo 34 verso 2 però nell'uno dice io benedirò l'Eterno in ogni tempo la tua lode sarà sempre sulla mia bocca l'anima mia si glorierà nell'Eterno gli umili ludranno e si rallegreranno cos'è che udranno gli umili queste persone mansuete umili udranno Dio e si rallegreranno e lo loderanno continuamente con la loro bocca perché bisogna benedire Dio sempre costantemente e la nostra anima si deve rallegrare in Dio questo fanno i Mansueti gli umili cioè udranno la gloria dell'Eterno e ingrandiranno con la loro bocca Dio esaltando il suo nome quindi i Mansueti si rallegreranno adesso passiamo al Salmo 37 verso 11 anzi verso 10 dice ancora un po' e l'Empio non sarà più dice fra un po' l'Empio non esisterà più sì tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più qui parla già della fine quando tutto terminerà sulla terra e allora a quel punto il Signore comincerà a giudicare i buoni i cattivi e i cattivi saranno cacciati al castigo al fuoco eterno perché il Signore sicuramente si sarà stancato di dare loro delle opportunità mentre coloro che saranno stati Mansueti avranno guadagnato la terra nuova quindi ripeto ancora un po' l'Empio non sarà più sì tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più ma verso 11 ma i Mansueti gli unici che saranno nella terra nuova possederanno la terra e godranno di una grande pace quindi i Mansueti possederanno la terra quella terra di Canaan spirituale terra dove scorrono latte e miele dove c'è la presenza di Dio dove gli esseri umani godranno Dio continuamente dice appunto i Mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace adesso passiamo al Salmo 76 verso 9 Salmo 76 verso 9 anzi verso 8 dice tu hai fatto udire il giudizio dal cielo e la terra fu impaurita ed acque quando Dio si levò per fare giudizio per liberare tutti i bisognosi della terra qui parla dei bisognosi della terra che li avrebbe liberati e perché dice questa cosa che avrebbe liberato tutti i bisognosi della terra perché questi bisognosi della terra erano persone uomini e donne mansueti umili dolci gradevoli benevoli affabili gentili misericordiosi idoneo per ascoltare la parola di Dio accettarla credere e fare la volontà di Dio e siccome ha tutte queste caratteristiche allora il mansueto accetta la volontà di Dio e compie i comandamenti del Signore perché le sue stesse virtù lo obbligano a compiere i comandamenti nel mansueto non c'è ribellione stoltezza arroganza orgoglio è tutto amore per lui è tutto dolcezza crede e fa la volontà di Dio ecco perché qui dice che i bisognosi della terra cioè i mansueti sarebbero stati liberati quindi tutti i mansueti sarebbero stati salvati dal Signore ci sono certo alcune eccezioni di persone che nascono mansuete come è successo al Signore Gesù Cristo e a Mosè ma la maggior parte degli esseri umani noi che non siamo nati già mansueti allora abbiamo dovuto essere stati trasformati abbiamo dovuto subire un cambiamento una trasformazione ma chi fa questa trasformazione chi compie questi cambiamenti Dio Dio il Signore Gesù Cristo è Lui che fa un cambiamento nella nostra vita nel nostro cuore che ci converte ci trasforma da persone irascibili rabbiosi rabbiosi in persone mansuete ricordiamoci quell'insegnamento che diceva che il lupo abiterà con l'agnello e il bambino di vezzato metterà la sua mano nel covo della vipera e non subirà alcun danno questi animali simboleggiavano persone con quelle caratteristiche di animali uomini e donne che avevano quelle caratteristiche caratteristiche per esempio di una tigre di un lupo di un cane di un serpente di un pavone reale caratteristiche di una pecora di una mucca bene quindi Dio paragonava gli esseri umani a tutti questi animali e Gesù Cristo disse il giorno in cui io cambierò il cuore delle persone allora tutti potranno abiterare insieme il lupo abiterà con l'agnello perché perché il cuore del lupo si convertirà nel cuore di un agnello fisicamente sarà ancora lupo ma senza avere un cuore da lupo ma avrà un cuore da agnello o da colomba quindi il Signore Gesù Cristo orientava e consigliava le persone e diceva dovete essere prudenti semplici sensibili come le colombe cioè doveva insegnare questo il Signore Gesù Cristo perché perché non tutti erano nati mansueti anzi Gesù Cristo venne per portare un cambiamento nella vita degli esseri umani e Dio com'è che cambia gli esseri umani per esempio noi quando noi sentiamo ascoltiamo la parola del Signore leggiamo la Bibbia e vogliamo nel nostro cuore amare Dio e piacergli fare la sua volontà fare il bene il giusto comportarci rettamente se io se io desidero tutto questo sebbene in me ci siano brutte caratteristiche sebbene io sia arrogante sebbene io faccia cose illecite malvagie ma se io voglio gradire Dio e cambiare se ho questa intenzione dico Signore aiutami a cambiare perché io non voglio essere così io non voglio soffrire e non voglio far soffrire gli altri a causa del mio modo di essere del mio comportamento allora Dio entra a cambiarci e ci toglie tutti i difetti e tutte le caratteristiche delle bestie e poi si compierà quel verso che dice il lupo abiterà con l'agnello e l'orso e la mucca saranno insieme pascoleranno insieme mangiando l'erba è perché il Signore fa un cambiamento nei cuori e delle donne che prima si comportavano come delle bestie alcuni dicono di altre persone si comporta peggio di una bestia quella donna o quell'uomo sembra una tigre nessuno si può avvicinare a loro ma chi fa questi cambiamenti? Dio è Dio che trasforma l'essere umano il cuore dell'essere umano lui ci trasforma e ci converte in uomini e donne mansueti infatti Dio disse i mansueti possederanno la terra nuova e che lui avrebbe salvato tutti i mansueti della terra cioè tutti coloro che nobilmente si sono disposti a Dio dicendo Signore io voglio cambiare voglio che tu mi trasformi mi togli tutti i miei difetti perché io non voglio peccare cambiami e Dio comincia a fare questo miracolo nella persona e converte questi uomini e queste donne in persone mansuete e li fa entrare così nel gruppo dei mansueti cioè coloro che godranno della vita eterna e arriveranno alla terra nuova adesso passiamo al libro di Isaia capitolo 6 verso 3 Isaia capitolo 6 verso 3 anzi passiamo piuttosto ad Isaia capitolo 11 versi 4 e 9 dice qui che il Signore Gesù Cristo era arrivato sulla terra e questo capitolo parla del regno il regno del Signore e di tutto quello che stava realizzando sulla terra qui sta parlando del verso che io vi dicevo prima nel verso 6 il lupo abiterà con l'agnello e il lopardo giacerà con il capretto cioè tutti i cambiamenti che Gesù Cristo fece quando arrivò sulla terra quindi da duemila anni a questa parte il Signore Gesù Cristo sta compiendo quest'opera miracolosa segnali cambiamenti di vita lasciando il suo Vangelo la sua parola inviò lo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo possa stare con uomini e donne e possano così essere convertiti in persone mansuete cosicché si possa realizzare quella promessa che Dio disse e cioè che i mansueti erediteranno la terra nel verso 4 anzi nel verso 3 dice che il Signore Gesù Cristo il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno ed Egli non giudicherà secondo le apparenze né darà sentenza per sentito dire ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese ecco un altro sinonimo dei mansueti gli umili del paese dice colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio ecco gli umili del paese di cui parla qui sono quei mansueti che ascoltarono la parola del Signore quando stette sulla terra un esempio di mansueti furono i discepoli e soprattutto gli apostoli perché la Chiesa iniziò con i dodici apostoli e il Signore li trasformò in uomini mansueti i dodici apostoli quindi furono i primi che ebbero la possibilità di ereditare la terra nuova e Gesù Cristo fece trasformazioni e cambio di vita negli apostoli ecco perché Gesù Cristo diceva vieni io ti muterò il cuore farò di te un uomo nuovo perché è necessario rinascere di nuovo cioè essere un uomo e una donna nuovi con un cuore mutato il Signore Gesù Cristo si incarica di questo come si caricò con i dodici apostoli e non dobbiamo angosciarci se non siamo nati mansueti perché la maggior parte dell'umanità non è nata mansueta ma Dio ci renderà mansueti perché noi ci prestiamo ad essere mansuete con l'aiuto di Dio perché loro i mansueti erediteranno la terra vivranno nell'eternità nella terra nuova nel verso 10 dice in quel giorno avverrà che la radice di Isai cioè il Signore Gesù Cristo che proviene dalla radice di Isai che era il padre di Davide si ergerà come una bandiera per i popoli le nazioni lo cercheranno e il luogo del suo riposo sarà glorioso quindi Gesù Cristo era ricercato verso 9 non si farà né male né distruzioni su tutto il mio monte santo poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'eterno come le acque ricoprono il mare quindi Signore Gesù Cristo stava dicendo che lui avrebbe fatto un cambiamento di vita radicale esteso proprio come le acque ricoprono il mare e lui lo avrebbe fatto nei cuori di uomini e donne che avrebbero ascoltato il suo Vangelo la sua parola allora lui si sarebbe intervenuto a cambiare i loro cuori e li avrebbe convertiti in uomini donne santa e in uomini e donne mansueti affinché tutti loro potessero ereditare la terra e noi desideriamo con tutto il nostro cuore ereditare questa nuova terra in Isaia in Isaia capitolo 60 passiamo di Isaia 60 verso numero 21 anche qui in questo capitolo di Isaia 60 sta parlando del Vangelo o dell'opera del Signore Gesù Cristo la sua opera evangelizzatrice il modo col quale Gesù Cristo stava cambiando i cuori degli uomini e delle donne convertendoli in uomini e donne nuovi buoni giusti retti mansueti e nel capitolo 60 verso 21 dice tutti quelli del tuo popolo saranno giusti essi possederanno il paese per sempre il germoglio da me è piantato l'opera delle mie mani per manifestare la mia gloria ecco il Signore Gesù Cristo attraverso la predicazione del suo Vangelo attraverso la sua manifestazione attraverso l'opera dello Spirito Santo lui si sarebbe incaricato di convertire uomini e donne in persone mansuete per possedere il paese la terra per sempre noi stiamo vedendo che questa promessa è per i mansueti passiamo ad Isaia capitolo 65 verso 17 dice in questo capitolo il Signore sta parlando anche di un castigo per i ribelli gli stolti gli increduli in quell'epoca il Signore già sapeva il Signore Padre sapeva che quando Gesù Cristo sarebbe arrivato a predicare il Vangelo sulla terra avrebbe avuto dei nemici dei ribelli degli increduli che non gli avrebbero creduto Dio già sapeva questo allora qui il Signore ci sta raccontando del castigo che avrebbe aspettato questi ribelli quindi Dio disse io per il futuro ho queste cose e lo dice nel verso 17 poiché ecco io creo nuovi cieli e nuova terra e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente qui il Signore Padre dice io creerò nuovi cieli e nuova terra dimenticandosi dei primi cieli e della prima terra ma chi godrà di questi nuovi cieli e di questa nuova terra i mansueti e già sappiamo chi sono questi mansueti già sappiamo che i mansueti hanno qualità e virtù e che si guadagnano queste virtù e queste qualità quando crediamo nel Signore e facciamo la sua volontà quando desideriamo piaceri in tutto allora Lui ci trasforma ci cambia il nostro modo di essere il nostro carattere i nostri modi di fare e ci converte in persone mansuete per ereditare la terra nuova che Dio ha per il futuro adesso passiamo ad Isaia capitolo 66 verso 1 dice così dice l'Eterno il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi dov'è dunque la casa che mi potreste edificare o dov'è il luogo del mio riposo Dio Dio qui dice voi non potrete mai fare un tempio fisico per me dimenticatevi diceva il Signore perché dopo il Signore Gesù Cristo non mi costruirete più nessun tempio fisico perché io non dimorerò in nulla di fisico dice il cielo è il mio trono la terra è lo sgabello dei miei piedi la terra è dove Dio posa i Suoi piedi ma questa terra non è fisica non è la terra nostra dove Dio posa i Suoi piedi Dio posa i Suoi piedi cioè la Sua presenza sul cuore dei mansueti non si riferisce alla terra come globo terrestre dove noi stiamo vivendo ora perché è molto contaminata di malvagità e di peccato quindi il Signore non può porre i Suoi piedi su una terra contaminata ma Lui può porre i Suoi piedi sul nostro cuore perché noi siamo sulla terra i Suoi credenti i seguitori del Vangelo di Gesù Cristo tutti loro abitano sulla terra e il Signore dice il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi dov'è dunque la casa che mi potreste edificare quella casa fisica che voi volete edificarmi come potreste farla non potete farlo perché io non sono una materia dice il Signore io sono uno spirito dice il Signore Signore Gesù Cristo chiaramente insegnò che Dio è uno spirito che deve essere adorato in spirito deve essere adorato in spirito perché Lui dimora nei cuori di persone mansuete e queste persone mansuete avrebbero ereditato la terra quindi la terra di cui parla in questo verso non è il globo terrestre ma sono i cuori nei quali il Signore dimorerà e alla fine al giudizio finale ci saranno cieli nuovi è una terra nuova forse questa terra sarà rinnovata ma prima di tutto deve essere bruciata rinnovata e c'è infatti un verso della Bibbia che dice che la terra sarà bruciata e purificata per convertirsi in una terra nuova forse sarà la stessa terra riconvertita ma noi cos'è che stiamo imparando oggi che vogliamo essere mansueti disporre il cuore per Dio accettarlo vogliamo conoscere Dio perché vogliamo essere mansueti i mansueti attraverso le loro qualità e virtù desiderano conoscere Dio desiderano conoscere come sono i cammini del Signore come si traccia il cammino del Signore come si percorre il cammino del Signore affinché io posso gradirlo cosa devo fare per gradire il Signore quali sono i comandamenti devo memorizzarli per gradire il Signore per cambiare per chiedere al Signore che mi aiuti a cambiare che mi tolga tutto il male che c'è in me che Lui mi aiuti a cambiare perché io voglio essere una persona mansueta io voglio possedere quella nuova terra che Dio sta preparando cosicché mi posso salvare posso godere di quella terra nuova il Signore Gesù Cristo venne per questo sulla terra Lui venne a togliere le persone dalla schiavitù dal peccato dal diavolo per farli convertire in mansueti ed ereditino così la terra la vita eterna le benedizioni di Dio e noi oggi stiamo imparando e desiderando che Dio si manifesti nella nostra vita che presto ci possa cambiare leggiamo nel verso 22 Gesù qui ha delle promesse per il futuro 21 dice prenderò pure alcuni di essi per sacerdoti e per leviti dice l'Eterno i sacerdoti e i leviti erano sacerdoti dell'antichità ma non solo a livello fisico i sacerdoti del popolo di Israele ma anche sacerdoti e leviti che è la stessa cosa a livello spirituale cioè tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù Cristo e la Bibbia dice che noi tutti siamo convertiti in re e in sacerdoti quando crediamo al Signore Gesù Cristo quindi qui dice prenderò pure alcuni di essi per sacerdoti e per leviti dice l'Eterno qui Dio sta parlando di una nuova terra di un cielo nuovo che sarebbero durati per sempre Dio abiterà lì con la sua chiesa con i suoi credenti in questa nuova terra quindi come potete vedere è molto importante che tutti noi siamo mansueti qualcuno dice ma quali sono le caratteristiche e le virtù dei mansueti già l'abbiamo detto sono persone idonee che accettano che credono nel Signore anche se voi avete migliaia di difetti anche se avete compiuto chissà quali malvacità o peccati gravi Dio vi cambia perché se voi volete cambiare gradire e guadagnare la vita eterna e vivere nella terra nuova che Dio ha preparato per il futuro cioè dopo la fine della terra allora Dio vi aiuterà a cambiare perché Lui vedrà nel vostro cuore l'intenzione di cambiare Dio cambia Dio vi convertirà in persone mansuete e noi vogliamo che Dio ci renda tutti mansueti perché questa è la condizione per ottenere la vita eterna essere mansueti i quali hanno i frutti dello Spirito le qualità le virtù adesso passiamo in Zaccaria capitolo 14 Zaccaria si trova prima del libro di Matteo si trova prima del Nuovo Testamento prima di Matteo due libri prima di Matteo si trova Zaccaria Zaccaria capitolo 14 e qui nuovamente ci conferma che i mansueti erediteranno la terra Zaccaria 14 verso 9 è importante guadagnare la vita eterna cioè abitare nella terra nuova in Zaccaria 14 qui Dio parla per il futuro il futuro cominciò quando il Signore Gesù Cristo nacque e poi predicò il suo Vangelo sulla terra lì cominciò il futuro di cui parla la Bibbia nell'Antico Testamento nell'Antico Testamento si menziona sempre questa frase in quel giorno in quel giorno è il futuro cioè l'arrivo del Signore Gesù Cristo predicando il suo Vangelo e qui in Zaccaria dice che in quel giorno cioè nel futuro Gesù Cristo avrebbe compiuto tante cose avete pronto Zaccaria 14 leggiamo dal verso 8 in quel giorno avverrà cioè quando Gesù Cristo arriverà sulla terra che da Gerusalemme usciranno acque vive queste acque vive sono Gesù Cristo come l'acqua viva vi ricordate la predicazione lo stesso Signore Gesù Cristo era l'acqua viva metà di esse andrà verso il mare orientale di queste acque e metà verso il mare occidentale in senso figurativo sarà così tanto d'estate che d'inverno ecco queste acque vive sarebbero durate in tutte le epoche per tutti coloro che avrebbero creduto nel Signore Gesù Cristo 9 l'Eterno sarà re su tutta la terra quindi dice che dopo che Gerusalemme avrebbe generato queste acque vive il Signore Gesù Cristo sarebbe stato re di tutta la terra ma non su tutta la terra fisica ma sui cuori dei credenti di uomini e donne che si sarebbero convertiti al Signore Gesù Cristo già in quell'epoca iniziando quindi con gli apostoli e da lì in poi avrebbero formato un gruppo di mansueti di cuori che si sarebbero convertiti a Dio ecco l'Eterno sarà su tutta la terra su tutti quei cuori convertiti la terra che noi conosciamo a livello fisico un giorno sarà bruciata e Dio ha già in progetto una nuova terra e qui dice la terra sarà re su tutta la terra qui parla di un re ovviamente spirituale che avrebbe governato sulla terra cioè sui cuori questo è tutto a livello simbolico e spirituale questo verso dice poi in quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome ecco noi dobbiamo essere già felici perché noi già stiamo godendo della presenza di Dio dello Spirito Santo delle sue manifestazioni e per coloro che ancora non vivono esperienze con Dio e vi invito a cedere ad accettare Dio con il vostro cuore e Dio vi renderà un uomo e una donna mansueti Dio poi vi prometterà la terra nuova Dio vi dirà che voi godrete la terra nuova ed è questa la benedizione che Dio vuole consegnarci adesso passiamo a Matteo capitolo 5 Vangelo di Matteo capitolo 5 verso 5 qui parla della beatitudine qui il Signore Gesù Cristo stava già predicando sulla terra era sul monte cominciò a predicare e disse beati i poveri in spirito perché di loro il regno dei cieli beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati beati i mansueti dice nel verso 5 beati i mansueti perché essi erediteranno la terra quindi questi mansueti dovettero prima di essere mansueti essere poveri in spirito dovettero far cordoglio essere consolati dovettero essere puri di cuore misericordiosi pacificatori dovettero attraversare questo percorso dovettero soffrire perché furono perseguitati a causa della predicazione del Vangelo quindi i mansueti per essere tali per essere definiti tali e per essere definiti beati dovettero attraversare tutti questi processi e di conseguenza racchiudere virtù e qualità volendo amare Dio volendo credere in Dio cosicché ereditare la terra ci sono tante persone ribelli che dicono Dio non esiste ma se noi disponiamo il cuore questo è il primo passo per diventare dei mansueti ed ereditare la terra nuova sempre in Matteo 5 verso 35 dice che qui il Signore Gesù Cristo stava parlando a tutti coloro che erano lì che stavano ascoltando la sua parola e nel verso 34 dice ma io vi dico non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio né per la terra perché è lo scabello dei suoi piedi del Signore infatti quando il Signore terminerà con la terra la brucerà allora lui calpesterà la terra ma dirà non giurate per questa terra perché questa terra finirà prima o poi un giorno né giurate per Gerusalemme perché è la città del Grande Re ma non era la città fisica era una città spirituale del Grande Re del Signore Gesù Cristo disse non giurate per tutte queste cose per il cielo per la terra per Gerusalemme loro stava insegnando di non giurare semplicemente dite le cose così come sono se sì dite sì se no dite no senza giurare non giurate perché voi se giurate commetterete tanti errori perché state giurando falsamente sopra le cose sante del Signore la terra i cieli la Gerusalemme è spirituale dite semplicemente la verità e basta quindi il Signore qui dice la terra è qualcosa di importante i cieli Gerusalemme ma la terra di cui parla qui è a livello spirituale simbolico sono i nostri cuori che il Signore sta preparando per possedere quella terra nuova spirituale che Dio sta preparando nell'eternità adesso passiamo nella seconda lettera di Pietro si trova poco prima di Apocalisse e poco dopo Giacomo Apocalisse l'ultimo libro della Bibbia quindi troviamo Pietro prima di Apocalisse prima della prima epistola di Giovanni seconda di Pietro capitolo 3 verso 13 qui sta parlando Pietro e nel 12 Pietro dice ai credenti stava predicando in quel tempo stava predicando il Vangelo mentre aspettate affrettate l'avvenuta del giorno di Dio vuol dire mentre aspettate cercate di prepararvi per l'avvenuta del giorno di Dio affrettatevi a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno significa che tutto sarà bruciato tutto sarà purificato ma noi secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia quindi qui Pietro dice che noi ma chi sono questi noi sono i mansueti vedete Pietro già si considerava una persona mansueta apparteneva al gruppo dei mansueti perché lui stava dicendo ma noi secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia che è Dio Dio che fa la giustizia è Dio con tutti coloro che fanno il bene il retto la cosa saggia coloro che hanno tutte le qualità le virtù i frutti dello spirito santo quindi anche noi desideriamo questi cieli e questa terra nuova noi vogliamo appartenere a questo gruppo dei mansueti adesso passiamo al libro di Apocalisse capitolo 21 Apocalisse capitolo 21 è l'ultimo libro della Bibbia e il capitolo 21 è il penultimo libro della Bibbia penultimo capitolo della Bibbia Apocalisse 21 qui in Apocalisse è l'insieme delle rivelazioni che Dio diede a Giovanni Giovanni si trovava su un'isola chiamata Patmos ed era in carcere e Dio diede a Giovanni delle visioni di cose che sarebbero accadute in futuro dopo l'arrivo del Vangelo di Gesù Cristo dopo di Lui sarebbe arrivato il tempo della fine quando l'umanità e il mondo sarebbero stati terminati e Dio sarebbe arrivato a giudicare i vivi e i morti i buoni e i cattivi nel libro di Apocalisse ci sono tante visioni e rivelazioni e alcune di esse sono difficili da capire e nel capitolo 21 di Apocalisse Giovanni ebbe una visione e dice poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati cioè la terra su cui noi viviamo in questo momento era già passata della visione di Giovanni e il mare non c'era più e io Giovanni vidi la santa città la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio perché dice che scendeva perché noi sappiamo tramite la Bibbia che Gesù Cristo scenderà dalle nuvole a prendere la sua chiesa e i credenti che sono vivi quando lui arriverà i mansueti che in quel momento staranno cercando Dio lo staranno lodando questi mansueti saranno trasformati in corpi gloriosi e saliranno sulle nuvole dove c'è il Signore mentre quelli che erano già morti nel Signore anche da tanti anni dice che il Signore li risuscita e salgono nelle nuvole per incontrarsi col Signore quando si arriva lì il Signore non ci racconta quello che accadrà il Signore dice che lì riceve tutta la sua chiesa ma non ci dice cosa succederà però questa è una visione di Giovanni che dice che vedi la Santa Città cioè la nuova Gerusalemme quella chiesa spirituale che scendeva dal cielo da presso Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo significa che la chiesa del Signore per prima cosa è nata è stata creata ed è stata con Dio poi è scesa dalle nuvole e poi ritornerà ritornerà nelle nuvole insieme al Signore dopo che la terra la terra fisica sarebbe stata bruciata 3 e udì una gran voce dal cielo che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini il tabernacolo è la chiesa del Signore abitata da uomini e donne che avrebbero ereditato la terra perché divenuti mansueti dice poi ed egli abiterà con loro cioè Dio abiterà con i mansueti della terra in quel tabernacolo formato da uomini e donne santi ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate quindi questa terra su cui noi viviamo passerà perché sarà bruciata e tutto sarà ricostruito a nuovo 5 allora colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio tutte le cose nuove poi mi disse scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli e mi disse ancora è fatto io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita chi vince cioè chi arriva all'ultimo giorno della sua vita perseverando credendo in me colui che non si stancherà ma arriverà alla meta finale il giorno della sua morte erediterà tutte le cose che Dio ha preparato per lui significa che i mansueti se perseverano fino all'ultimo giorno della loro vita fisica allora loro che hanno perseverato riceveranno in eredità tutte le cose e dice e io sarò per lui per quest'uomo questa donna mansueti sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio ma per i codardi gli increduli gli abominevoli gli omicidi i fornicatori i maghi gli idolatri e tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo che la morte è seconda i codardi gli increduli questo gruppo non ha voluto accettare né credere il Signore Gesù Cristo questo gruppo di increduli e di codardi che trascorsero la loro vita commettendo omicidi cose abominevoli adulteri stregonerie idolatrie mentendo ingannando ricattando essi cos'è? che riditeranno uno stagno che arde con fuoco e zolfo cioè la morte loro definitiva non risusciteranno nuova vita no vivranno in castigo eterno però nel verso 7 dice c'è chi vince c'è chi crede chi persevera io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio e noi desideriamo vivere nei cieli nella terra nuova come dice il verso 1 quando abbiamo letto nei salmi che i mansueti riditeranno la terra noi vogliamo appartenere a questi mansueti e le persone potranno dire ma quanto è difficile essere mansueto è difficile avere tutte quelle qualità avere tutte quelle virtù frutti dello Spirito Santo è difficile dicono no noi non nasciamo mansueti sono pochi coloro che nascono mansueti sono delle eccezioni ma Dio ci rende mansueti lui ci rende mansueti ma noi dobbiamo credergli accettarlo e dire e chiederci perché io non mi dispongo per Dio perché non dispongo il mio cuore e chiedo al Signore di cambiarmi e che faccia di me un uomo nuovo una donna nuova perché io non voglio commettere delle malvagità nella mia vita queste cose mi rendono infelici e rendo infelice anche tutte le persone che mi circondano i miei cari la mia famiglia li faccio soffrire quindi dobbiamo pensare a tutte queste cose ma soprattutto all'aldilà alla vita eterna non pensiamo solamente ai giorni che dureremo qui sulla faccia della Terra in questo mondo ma pensiamo di noi cosa ne sarà di noi nell'aldilà perché si esiste l'eternità quindi non dobbiamo disprezzare la parola di Dio perché disprezziamo quello che Dio ci sta offrendo Dio in questo libro meraviglioso questo libro meraviglioso nel quale si parla di Dio si parla del modo in cui noi possiamo ottenere la benedizione di Dio ci dice come noi possiamo diventare uomini e donne mansueti per ereditare la Terra Nuova la vita eterna che Dio ha preparato per noi oltre al fatto che leggiamo tante manifestazioni di Dio quando Lui si manifestò nel popolo antico ma anche oggi Dio si manifesta con noi allo stesso modo ecco perché noi crediamo che Lui esiste e noi predichiamo infatti un Dio vero vivo potente perché noi abbiamo visto le sue manifestazioni stiamo conoscendo Dio e le sue manifestazioni abbiamo visto i suoi miracoli segnali prodigi e Lui ha convertito tanti cuori ha cambiato tante persone Lui ha trasformato tante vite tanti esseri umani gente impia gente che non aveva pietà né misericordia e Dio ha cambiato queste persone ha cambiato i loro cuori li ha convertiti li ha trasformati ecco perché noi crediamo in Dio crediamo che Dio esiste Lui è reale Lui è vero perché noi abbiamo visto migliaia di testimonianzi migliaia di persone cambiate in uomini e donne mansueti se prima erano persone violente che amavano il male e facevano il male e vivevano del male nelle cose illecite facevano cose illecite cose abominevoli e noi abbiamo visto invece il cambiamento che Dio ha offerto a queste persone perché perché Dio esiste perché Lui è vivo perché Lui è reale e Lui è vicino a noi non è difficile non è difficile certo noi stessi da soli non riusciamo a cambiare a trasformarci noi non possiamo togliere l'ira se sentiamo dell'ira se siamo superbi arroganti se portiamo del rancore se siamo vendicativi noi stessi non riusciamo a cambiare da soli ma se io ascolto Dio Lui mi fa una chiamata io ascolto questa chiamata perché non ascoltarla io l'ascolto medito rifletto e poi prenderò la mia decisione e dirò sì signore io voglio io voglio essere felice perché io so di essere arrogante stolto e oltretutto non sono felice ma ho sentito e vedo gente che è felice perché crede in te perché vogliono fare la tua volontà e sono felice allora anch'io voglio essere felice dammi l'opportunità e Dio vi darà l'opportunità Dio vi renderà un uomo e una donna nuovi con un nuovo cuore muterà il vostro cuore per bene e farà di voi persone mansuete e così i mansueti erediteranno la terra che tutti noi possiamo appartenere a questo gruppo al gruppo dei mansueti perché loro possederanno la terra questo è un invito per tutti voi affinché Dio vi benedica vi protegga e Dio faccia di voi dei veri uomini e donne validi nella società e validi per Dio che è la cosa principale adesso preghiamo Dio Padre Santo Padre Celeste grazie Signore per questo momento per questa riflessione perché sei stato con noi perché ti sei vivificato attraverso la tua parola hai vivificato la Bibbia perché tanti non credono in questo libro Signore tanti non credono e hanno scritto altri libri a modo loro si sono inventati tanti scritti secondo il loro modo di vivere a come più gli conviene vivere la vita in un modo facile secondo appunto il loro modo di pensare ma noi Signore che stiamo godendo di questo libro sappiamo che tanti scritti si sono persi e che tanti scritti appunto si persero a causa di guerre persecuzioni incendi a causa dell'invitio e del maligno tuttavia tu hai conservato tutto quello che è rimasto scritto nella Bibbia come una grande informazione della tua esistenza noi la leggiamo e noi vediamo che tu vivifichi i tuoi scritti perché tu ti manifesti tra di noi ti manifesti con il potere dello Spirito Santo ti manifesti con il dono della profezia con i sogni le visioni come tu dai sogni visioni a tante persone e poi li consoli fai miracoli segnali orienti benedici dirigi guidi insegni il cammino nella loro vita secondo quello che loro necessitano tanti sognano tanti hanno benedizioni tanti hanno rivelazioni e tanti hanno ricevuto miracoli segnali prodigi guarigioni liberazioni tu hai tolto a tanti le maledizioni le stregonerie i malocchi hai tolto il potere di fare stregonerie e di procurare del male delle altre persone tu hai tolto questo potere agli esseri umani tanti li stai proteggendo signore perché la stregoneria e le maledizioni e malocchi sono una costante nel mondo e tu signore vedi tutto questo e proteggi i tuoi proteggi coloro che vogliono appartenere al gruppo dei mansueti perché i mansueti possederanno la terra sì padre noi vogliamo appartenere a questo gruppo meraviglioso signore quindi che tu ci possa trasformare e cambiare signore che tu ci possa riempire di virtù qualità frutti dello spirito affinché anche noi possiamo predicare parlare di te apertamente con tutta la libertà necessaria aiutaci padre celeste insegnaci ogni giorno signore come ti dicevo padre grazie per manifestarti nella nostra vita perché tu sei reale tutto quello che hai lasciato scritto nella bibbia è reale perché noi lo viviamo oggi nella nostra realtà noi vediamo realmente miracoli tutto quello che tu fai con tante persone sia del passato che del presente perché oggi tu ti manifesti anche oggi la tua gloria è manifestata la tua presenza è nella nostra vita e nei nostri cuori noi vediamo i cambiamenti di vita che tu hai fatto a tante persone grazie signore signore abbiamo sentito di tutti i miracoli che tu hai fatto ti chiedo signore di aiutare tutte le persone che ancora non vivono esperienze con te aiutagli a capire i tuoi cammini e che anch'essi si possano convertire a te e ricevere le tue benedizioni signore manifestati a tutti coloro che soffrono che sono malati di diverse tipologie di malattie malattie incurabili malattie nel loro corpo osserva ogni malato del fegato dei reni del sangue della pelle dell'intestino bene tutti gli organi interni del corpo e gli organi esterni guarda tutte queste malattie perché le persone si lamentano e soffrono per queste malattie e loro confidano in te aspettano in te nella tua misericordia e che tu possa stendere la tua mano potente guaritrice sopra di loro per guarirli e per pulirli inoltre signore ci sono tante persone che sono tormentate da spiriti malvagi tante persone non riescono a dormire a mangiare perché questi spiriti impuri li stanno tormentando signore riprendi questi spiriti impuri malvagi guarda le persone che ti acclamano che ti chiedono coloro che ti chiedono in preghiera tu conosci il signore i bisogni di ognuno le necessità di ognuno stendi la tua mano potente fai miracoli segnali e inoltre signore togli questa tribulazione che stiamo vivendo in questo periodo a livello mondiale togli signore questo virus abbi misericordia abbi misericordia signore e aiutaci a capire a comprendere i tuoi cammini perché vogliamo adorarti lodarti e innalzare il tuo nome vogliamo onorarti e benedirti signore nei secoli dei secoli grazie padre celeste grazie signore nel nome glorioso di gesù cristo tuo figlio amato gloria al signore adesso cantiamo il coro 109 che si intitola Cristo rompe le catene Cristo rompe le catene Cristo rompe le catene e mi dà la libertà come potrei dimenticarti oh mio Gesù se il fondamento della vita mia sei tu mi liberasti mi liberasti dall'inferno e dalla morte come potrei dimenticarti oh mio Gesù Cristo rompe le catene Cristo rompe le catene Cristo rompe le catene e mi dà la libertà e mi dà la libertà e mi dà la libertà come potrei dimenticarti oh mio Gesù gloria al Signore gloria al Signore gloria a Dio l'Onnipotente ringraziamo il Signore tante benedizioni da parte di Dio che Dio vi benedica grandemente vi amo con tutto il mio cuore tanti abbracci tanti baci Dio vi benedica a presto